In questo video studiamo l'intersezione di tre piani e vediamo alcuni esempi significativi. Poiché ricordiamo che il piano è rappresentato da un'equazione lineare in tre incognite x, y, z, allora avere a che fare con un sistema di tre equazioni in tre incognite vuol dire calcolare l'intersezione di tre piani. Cominciamo a vedere questo primo esempio. Scriviamo la matrice dei coefficienti di questo sistema lineare. Osserviamo che questa matrice dei coefficienti ha tre righe proporzionali e osserviamo che invece la colonna dei termini noti non forma vettori proporzionali, quindi questo sistema non è risolubile. Infatti questi tre piani sono tra loro paralleli. Allora il sistema non ha soluzione e i piani risultano tra loro paralleli e distinti. Infatti osserviamo che il vettore normale del primo piano è il vettore di componenti 2, meno 1, 2. Osserviamo che il vettore del secondo piano, meno 6, 3, meno 6, è esattamente meno 3, il vettore 2, meno 1, 2. Cioè meno 3 volte il vettore v1, mentre il vettore v3 è 2 volte 2, meno 1, 2. E quindi il vettore normale del terzo piano è 2 volte il vettore v1. Quindi possiamo vedere che i tre piani hanno tutti e tre lo stesso vettore normale, quindi sono tra loro paralleli. Passiamo a questo secondo esempio. Qui osserviamo che la matrice dei coefficienti ha le righe, anche questa volta, tra loro proporzionali, ma anche la matrice completa ha tutte e tre le righe proporzionali. Ciò significa che sia la matrice dei coefficienti che la matrice completa hanno entrambi caratteristica uguale a 1. Quindi il sistema possiede infinito alla 3 meno 1 uguale infinito alla due soluzioni. Quindi il sistema è infinito alla due soluzioni. Quindi osserviamo che in questo caso i piani hanno tutti i coefficienti tra loro proporzionali, compresi i termini noti. Quindi si tratta di piani tra loro coincidenti. Cioè in realtà abbiamo a che fare con lo stesso piano, perché abbiamo tre equazioni che differiscono tra loro solo per una costante di proporzionalità. Passiamo quindi al terzo esempio. In questo terzo esempio osserviamo che solo le prime due righe sono tra loro proporzionali. Quindi i primi due piani sono tra loro paralleli. Mentre il terzo piano, quindi la terza riga della matrice, non è una riga proporzionale alle altre due. Quindi anche in questo caso siamo di fronte a un sistema che non ha soluzioni, perché non esistono punti comuni a tutti e tre i piani, in quanto i primi due piani, quindi le prime due righe della matrice, hanno i coefficienti delle incognite proporzionali. Quindi anche in questo caso abbiamo un sistema che non ha soluzioni. Vediamo questo altro esempio di intersezione di tre piani. Consideriamo la matrice dei coefficienti e ne calcoliamo il determinante. Osserviamo che è uguale a meno 5, quindi diverso da zero. Siamo in presenza di un sistema che ha la matrice dei coefficienti quadrata con determinante diverso da zero. Quindi è un sistema crameriano che ha una sola soluzione. A questo punto determiniamo questa unica soluzione, scrivendo adesso le tre matrici che ci permettono di calcolare il valore delle tre incognite x, y, z. E ne calcoliamo il determinante di queste matrici, quindi precisamente la matrice che ci aiuterà a determinare il valore di x, che si ottiene questa matrice sostituendo la prima colonna della matrice dei coefficienti con la colonna dei termini noti. E calcolando il determinante troveremo che vale meno 10. Poi la seconda matrice che invece è ottenuta sostituendo la seconda colonna con la colonna dei termini noti e che avrà come, calcolando, come valore meno 5. Infine la matrice, sempre nel terzo ordine, che ottengo dalla matrice D sostituendo la terza colonna con la colonna dei termini noti e che avrà come valore del determinante meno 5. A questo punto possiamo quindi scrivere i valori di x, y, z. Allora, precisamente il valore di x sarà il rapporto tra il determinante di D1, meno 10, e il determinante di D, meno 5, quindi 2. y sarà il rapporto tra il determinante di D, meno 5, e il determinante di D, meno 5, quindi 1. Infine z sarà il rapporto tra il determinante di D3, meno 5, fratto il determinante di D, meno 5, quindi 1. Quindi il sistema possiede una sola soluzione che è il punto comune ai tre piani ed è esattamente questo punto comune, il punto P di coordinate 2, 1, 1. Concludiamo con questo ultimo esempio. Cominciamo a scrivere la matrice dei coefficienti. Cominciamo a osservare che la terza riga è la somma delle prime due. Vediamo anche la matrice completa del sistema. E osserviamo che anche la matrice completa ha l'ultima riga che è la somma delle prime due. Quindi possiamo dire che in entrambe le matrici non esiste una sottomatrice del terzo ordine che abbia il determinante diverso da zero, mentre ne esiste in entrambe almeno una sottomatrice del secondo ordine che ha determinante diverso da zero, per esempio questa. In entrambe sicuramente ha determinante diverso da zero. Quindi cosa possiamo concludere? Possiamo concludere che entrambe le matrici, sia quella dei coefficienti che quella completa, hanno caratteristica uguale a 2 e hanno quindi caratteristica tra loro uguale. Allora il sistema è risolubile e il sistema ha precisamente infinito alla 3 meno 2 infinito alla 1 soluzioni. Quindi abbiamo a che fare con il sistema che ha infinito alla 1 soluzioni e cosa possiamo concludere? Possiamo concludere che questi tre piani hanno tra loro infinito alla 1 soluzioni comuni, cioè una retta in comune. Siamo di fronte a un fascio di piani che hanno una retta in comune. Quindi abbiamo concluso, abbiamo visto alcuni esempi significativi di intersezione di piani nello spazio. Grazie. 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 Grazie.